Vai, Derek, una prugna o una mela per me. Tocca a te lì, Amanda. Derek, stai attento, sì, Derek, stai attento, Colin, stai attento, eh, che poi serve anche mettere i pezzi nel corpo. Derek, tocca a te. Vai, Derek. Vai, Derek, tutto intero il corpo. Ho due frutti, due, scegli. Cos'hai, Derek? Due prugne? Ok. Due prugne, tocca a me adesso. Una pera. Vai, Colin. Il nostro uomo del corvo, Colin, ha deciso di fare, di stare fuori dal gioco e costruire il corvo. Vai. Non resta fuori dal gioco, io sono buono. Sei il corvo buono, che vuole la frutta, hai ragione, scusami, c'è la frutta buona a mangiare. Non è maggiore. Tocca a te, Derek. Vai, Derek. Però è un po' buona. No, no. Non si può ritirare. Tocca a me, non si può ritirare. Tocca a papà, poi tocca di nuovo a te, vai. No, dopo che liama. Allora, verde, mela. Tocca a te liama. No, ma allora. Non farlo posta, non farlo posta, ti ho visto. Lascia, eh, eh. Vai, 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 vai. Derek, Derek, Derek. Vai, Derek. Dai. Siamo veramente nei guai adesso, eh. Derek, contiamo su di te. Ok. Vai, verde. Prendi là. Cosa prendi? Prendi là. Cos'è questa? Mela. No, bisogna che lo dica Derek, eh. Che cos'è quella verde? Una mela. Una mela? No. Ok, allora io ho fatto giallo, che è la pera. Tocca liama. Tocca a te. No, prendi due frutti. Ok, va bene. Tocca a te, Derek. Vai, Derek. E lasciate che Derek dica il frutto. Derek, che frutto devi prendere adesso? Derek? Il giallo. Il giallo. È la pera. No, aspetta. Vai, Derek, prendilo tu. Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Pera. Bravissimo, ok. Esatto, aiutiamola a parlare. Va. Rugna. Ah, la giame. Vai, Derek. Tocca a te. Tu Colin, aiuta Derek a parlare. Vai, Derek. Stimolalo a parlare. Derek, tocca a te. Derek, tocca a te. Derek. Bravo. Tocca a te. Dietro. Chi dira Derek? Di no. La. Derek. Derek. Ascolta, Cony. Che frutto hai preso? Che frutto hai preso? La. Bru. La prugna. 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 Bravissimo. Bravissimo. Ancora. Beh. Sempre bene. Bravissimo. No, no, pia, prendi. Prendi. Prendi, prendi. Le anghibe. Siamo nei guai. Derek. Vai. Cosa. Pericolosissima. Le pere. Sanno. Per finire. Tocca a te. Siamo nei guai. Non tocchiamo le paniche. Abbiamo capito. Anche... Dare, che cosa hai preso? Cos'è? Che cos'è? Non ho capito nulla. Prugna. Prugna. La pr... Prugna. Pena ciliega. Prugna è un po' di... No! Maria, la situazione è drammatica. Tu che sei, Darek? Darek, contiamo su di te, vai. Vai, Darek! Prendi la... Sì, è una ciliega. E cos'è Darek? È una ciliega. Ciliega. Bravo. E avevo detto io che era una ciliega. Praticamente è impossibile stimolare Darek a parlare con questi due. Ho capito la pere! Le anche le pere, siamo veramente... Siamo nel panico, quell'altro. Cos'è? Ciliega. Ciliega. Liam è riuscito a prenderne due. Vai, Darek, che tocca a te. Siamo nel panico! Ciliega. 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 Vai, Darek. Vai, Darek. Vai, Darek. Tocca a te, lancia il dado. Siamo in panico perché sono finite tutte le pere. Ah, no! Come stai? Eh, non si può tirare. È ancora. Ah, no! È ancora. È ancora. Tocca a me. Vai. Beh, no! Allora! Ma che partita sfortunata! Veramente incredibile! Liam, tocca a te. Salvaci tu. Uno tocca a me. No! Allora! Incredibile! Derek! Derek! Tocca a te, Derek! La pittona è disperata. Meno male! Vai, Derek, la prugna! Vai, prendi la prugna! Tocca a me. Tocca a te. Vai, papà! Meno male! Via, Tommy! Vai! Tocca a te. Prendi una mela, una mela! No! Ha vinto il corvo e si mangia tutta la struta di 축INO. Nyang, nyan, 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 nyan. Non sono incinzionate! Non sono incinzionate! Non c'è